Ancora sforamenti, ancora segni chiari di uno stato di inquinamento che non accenna a diminuire. Nuovo sforamento a nocera inferiore così come in altri comuni dell'agronocerino sarnese del livello delle polveri sottili, come sottolinea dalla sua pagina Facebook Medioventre del Comitato No Inquinamento Novasche, che più volte va ad accendere i riflettori su una problematica mai sopita. Nulla si muove, tutto tace, dice, ma tutti ne paghiamo le conseguenze con la nostra salute, sottolinea a gran voce. Ordinanze anti-smog, limitazioni, sembrano non bastare mai. I dati che arrivano dalla centralina della scuola Solimena a nocera inferiore mostra troppo spesso dati allarmanti. Diversi gli sforamenti che si erano già registrati anche ad agosto, 4 ad inizio mese, l'altro alla fine. Un problema è quello delle polveri sottili che vado ad aggiungersi alla nusa questione dell'inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti. Acqua putri, d'aria irrespirabile, rischio e sondazioni hanno spinto in queste ultime settimane diversi sindaci del comprensore dell'agro a fare fronte comune, ad alzare la voce. E si pensa alla nascita di un coordinamento di sindaci. Intanto la situazione resta critica. È così per i torrenti, è così per le polveri sottili. Tutto mentre il ministro Costa conferma la presenza di agenti chimici nel Solofrana e fa chiarezza sulla messa in sicurezza dei torrenti dopo l'interrogazione presentata dall'onorevole Virginia Villani. Si sarebbe pronti per alcuni lavori previsti nel grande progetto Sarno. L'aggiudicazione di alcuni lotti sarebbe ormai quasi per arrivare.